Ad Atripalda, presso la chiesa di Sant'Ippolisto, l'ultimo saluto a Cosimo Spagnolo e Rossana Arena. La coppia di coniugi deceduta sabato pomeriggio in un incidente stradale a Capaccio Pestum. Marito e moglie di 48 e 49 anni viaggiano a bordo di una moto quando si sono scontrati con un'auto lungo la strada statale. Alla guida della vettura un 49enne di ballo della Lucania, deceduto anche lui ieri presso l'ospedale Ruggi di Salerno. Una tragedia assurda, soprattutto se si pensa che l'uomo alla guida della macchina sabato pomeriggio non doveva essere lungo la statale 18. Dagli accertamenti ancora in buon corso, pare infatti che il 49enne non poteva guidare in quanto gli era stata ritirata la patente in precedenza e gli esami tossicologici avrebbero inoltre evidenziato che il conducente dell'appunto era sotto l'effetto dell'alcol. Rabbia e dolore in queste ore prevalgono nella cittadina del sabato, la comunità tripaldese si è stretta attorno alle famiglie Spagnolo e Arena. Ai genitori della coppia in particolare al figlio. Rossano e Cosimo erano stimati per la loro riservatezza, persone discrete. Cosimo Spagnolo, dipendente dell'azienda Mastro Berardino, viene ricordato dai colleghi dal professore Piero Mastro Berardino come una persona buona e sempre disponibile, un lavoratore scrupoloso che accoglieva tutti con il sorriso. Il parroco di Arripalda da Luca Monti si fa portavoce dello sgomento dell'intera comunità cristiana per l'addio a Cosimo e Rossana. Il sindaco Paolo Spagnolo e l'intera amministrazione comunale esprimono cordoglio per i due concittadini che hanno perso la vita. Quando la notizia era ancora incerta, ha scritto il primo cittadino, ho sperato si trattasse di un errore, tuttavia successivamente è arrivata la triste conferma, siamo vicini alle famiglie coinvolte.